Giorginio, c'è Gargano, servito, di nuovo Giorginio Chiede movimento lì davanti, anche Giorginio, Gargano per Amsic, morbido e le tocco Vuoi mettere lui qualcosa, il Pipita dovrebbe calciare, lo prova! Gol fantastico! Il Pipita in guaina, un corta centro avanti, Spalè, il Pipita, 1-1 Hai detto bene, un gol fantastico Il suo, perché va a puntare l'uomo e poi incrocia sul secondo palo Dove non ci arriva il portiere, gol straordinario Stava un po' soffrendo perché cercarsi il piede destro, salta due uomini E poi la incrocia sul secondo palo e trova un grandissimo gol E non è neanche detto che lo trovi perché ci sono quattro gambe Altro angolo, un gol da fenomeno assoluto, non è in perfette condizioni Lo sa e deve cercare un gol Non ha allentato la pressione, Napoli aveva più spazio per giocare il pallone Sono abbassati un po' e qui appena ti abbassi, Higuain subito li ha puniti Primo controllo, poi si è portato avanti la palla e ha incrociato Quando poi la palla passa in mezzo alle gambe Il gol per il Pipita